Ma allora, le formazioni prevedono Savic in porta, Schurz, Rodriguez e Sazonov, perché buongiorno non c'è ancora, poi ho visto, far ridere, nelle probabili formazioni 3-5-2 con davanti come due punte Sanabria e Vlasic. Allora, magari ho visto un sito sbagliato, perché veramente ragazzi è allucinante, io non è che sono allenatore di calcio, Juric chiaramente, tecnicamente ne sai più di me, ne sai più di voi, e i tuoi giorni degli allenamenti, va bene tutto. Uno può dire facile fare il fenomeno stravaccato sul divano dicendo deve giocare quello, deve giocare l'altro, però c'è, seriamente, seriamente. Io vorrei che Juric mi spiegasse, perché magari avrebbe delle motivazioni corrette, io direi ha ragione, però, posto che tanto io e nemmeno voi possiamo sapere cosa passa nella testa di Juric, che magari sono cose che hanno un senso, ma per me sono incomprensibili, e cose che la mente mi vede agli allenamenti, questo non possiamo sapere. Al netto di questi io dico, al netto anche del fatto che tanto contro l'Inter ne prendiamo 5, tutto quello che volete, però a livello proprio di formazione, ma io dico, cioè, ho visto, io ripeto, magari poi è un sito del cavolo e la formazione è sbagliata, Juric fa come dico io, però, cioè io ho letto un 3-5-2 con appunto, in difesa di quello che ho detto, davanti, Vlasic, punta, cioè, comunque, due punte con una e Vlasic, che sappiamo, mi viene da ridere, sappiamo benissimo tutti come rende Vlasic, in generale, ma soprattutto quando gioca punta, che una volta avevo giocato punta e mi pare, mi pare contro il Geno, in quel Torino Geno, 1-0 grazie a Radunic, allora, la partita peggiore di tutto il Torino Geno, anche se vi invento, e con 5 in mezzo al campo, con Bellanova, la 0 fascia ok, e in mezzo al campo, Tamese, Ilic, Ricci, ma io dico, puoi fare un fottuto 3-4-2-1, quello che fai sempre tu, con ovviamente Sanabria punta, con ovviamente sulle fasce Bellanova e Lazzaro ok, mettendo semplicemente, semplicissimo, cioè, precotto, Ricci e Tamese a centro campo centrali, Ilic e Radunic, dietro a Sanabria, ma qual è il problema? Perché vi devi fare un modulo nuovo? Con un distacco faccio il centro campo e attacco con davanti Vlasic, che è una merda come giocatore là davanti con due punte, ma perché? Cioè, ma che senso ha? Cioè, ma che senso ha? Che senso ha? Poi magari domani non è così, però io questo ho letto, poi, dichiarazione di Juric. Allora, anche lì, cerchiamo di essere onesti. Juric può dire esattamente tutto quello che vuole? In teoria sì, però nel suo tempo anche no, se vuole salvaguardare la sua posizione. Che poi, secondo me, secondo me, da come vedo Cairo, Cairo qualunque cosa dici, talmente Cairo, tanto secondo me, se ne fotte in realtà del toro in quanto risultati cose. Secondo me, da come lo vedo, Cairo è sciallissimo, Cairo è nel chilling più totale. Cairo proprio è nel chilling più totale. È nel chilling. Lui, ah, lui se ne, secondo me, non lo dico per insultarlo, secondo me Cairo, se ne fotte del Cairo, cioè l'ha anche dimostrato nel corso degli anni. Tu li puoi dire di tutto a Cairo, puoi essere un suo dipendente, puoi insultarlo, ma tanto poi dici, vabbè, ma sì, ma sì, non importa, Juric, confermato. Quindi, secondo me Juric volendo potrebbe dire quello che vuole a Cairo. Io mi chiedo con che coraggio Juric, ok, l'altra volta ha fatto un'intervista post-Giuventus Torino, che non ho visto, l'intervista, volevo vederla, non l'ho vista in realtà, ma è emotiva in cui pare che sia scusato. Ma ci vuole tanto Juric a fare un'intervista in cui intanto non dici delle frasi a caso, che dovrebbero essere motivazionali, ma sono imbarazzanti. farebbero un gran campionato. Ma in base a cosa? Cioè Juric, in base a cosa? Poi ripeto, io non sono lì a allenamento a Filadeffia tutti i giorni, come sei tu, perché Juric è tutti i giorni con i suoi giocatori. Io sono un povero visionatore delle partite, oltre che tifoso, ma tifoso non c'entra, cioè in questo caso, io visiono le partite, visiono le partite, vedo come giocano, vedo come giocano i tuoi giocatori, vedo i risultati, e una dichiarazione in cui mi dici adesso, faremo un, faremo, non volevo fare meglio, veramente, non volevo dire così, non volevo fare meglio, giuro. Faremo un gran campionato e non siamo all'undicesima giornata. Quindi siamo avanti, siamo all'undicesima giornata, faremo un bel campionato, ci sei già dentro il campionato. Cioè, senza neanche Zapata che però Juric dice no, ma comunque non è un infortunio, tranquilli, è solo un riacutizzarsi di un'antica cicatrice, minchia, quasi peggio, cioè, vabbè, comunque. Secondo Juric ci sarà già con il leccio, cos'è fra due, non guardo mai dopo due partite. Cioè, la dichiarazione fra le varie cose è, tranquilli, raga, faremo un gran campionato, ma almeno, io dico almeno, almeno, seriamente, sta zitto. Non dire nulla, cioè, non dire nulla, cioè, non dire nulla. Non dire nulla, Juric, veramente, non dire nulla. Evadi la domanda, pensi che tu facci in un'intervista, ogni tre giorni, ogni due, avrai l'abilità comunicativa. Cazzo. Ti chiedono, ma se lo te il torno, dici, no, vediamo, vediamo il partito per partito. Cioè, una dichiarazione a caso, così. Ma non dire, cioè, faremo un gran campionato, ma cosa pensi, Juric, di instillare nel tifoso? Ah, faremo un gran campionato, vai, allora sì, cioè. Facciamo ridere, facciamo ridere noi stessi. Siamo ridicoli, ma nemmeno, in realtà, nemmeno ridicoli. Siamo talmente mediocri che non siamo ridicoli, perché è ridicolo che fa qualcosa e si rende ridicolo. Il torno, non facendo nulla e rimanendogli a galleggiare, no, cioè, galleggiare nella merda della mediocrità, non è nemmeno ridicolo, perché è ridicolo che si mette in gioco. Secondo me, il torno di Juric e di Cairo non si mette neanche in gioco. Rimane lì. Qualcuno dice perché sono gli Agnelli e gli Elkan, qualcuno dice per colpa di Juric, qualcuno dice per colpa di Cairo, qualcuno dice per colpa di giocatori, io dico per colpa di giocatori anche di Zapata. Ma alla fine, cioè, noi siamo nemmeno ridicoli. C'è il torno, una squadra che sta diventando anonima, stiamo veramente scendendo in anonimato. Domani, Torino-Inter, in cui io, perché sono un pazzo, più che altro perché ho tempo, per una volta incredibilmente, vado allo stadio incredibilmente dopo Torino-Roma, non so da quanto non mi capita di andare due volte allo stadio tipo in un mese. Per motivi lavorativi riesco ad andare, vado allo stadio. Comunque Torino-Inter di per sé è partita interessante. Io dico, in realtà non dovrei andare allo stadio, ci dovrebbe essere assenteismo, ammetto, io ci vado e magari sbaglio, ammetto, in questo caso che non vado mai praticamente, in questo caso vado perché posso, ok, in Torino non dovrei andare. Se uno dice ma che cazzo vai allo stadio, hai ragione. A me come diritto andare come non andare, però ci sta. Effettivamente bisognerebbe non andare allo stadio, perché Torino-Inter è veramente di domani una partita veramente del cazzo. Per chi vede questo video domani, non so quando lo pubbliche eccetera. Comunque Torino-Inter di sabato 21 ottobre ore 18. È una partita del cazzo in cui arriviamo veramente demotivati, proprio a secco, cioè in una situazione proprio di merda, di depressione, di mediocrità totale, in cui noi ne peglieremo otto, perché per battere l'Inter c'è, quest'Inter qua così quadrato, dovremmo avere una motivazione gigantesca, essere super in hype, avere un grandissimo apporto dei tifosi che in questo momento giustamente non c'è. Arrivare da buoni risultati, da un buon derby, da buone cose, bisogna essere su una spinta, una cosa che ovviamente non c'è perché giustamente ci siamo tutti altamente rotti il cazzo. E vi dico una cosa, a me non è assolutamente mancata la Serie A, non mi è assolutamente mancato il Toro. Io al ToroCast, sezioni live, mi diverto molto di più a fare scontri, te virgolette, Cismondi, Cavallo, Connati Opossamaico, Gli Copoforio, queste live bellissime, divertenti, molto di più a parlare di casi, caso Bronzelli, anche un ritorno del caso Polloni, in qualche modo in cui tornavo a parlare, ma non so se mi diverto molto di più a parlare di questo, che non a trattare di questa cosa oscena e terribilmente mediocre e ignobile e nulla che è il Torino FC quando fa le partite. Boh, ci vediamo domani ragazzi.